Un saluto da Omar, del canale Mena Me e Fatate, un canale più per uso hobbistico e dilettantistico che per altro. Qua c'è l'amico Giacomino che sorveglia i pianti pomodoro. Qua invece siamo nel settore dei pomodori molteno, in questo caso questi due filari da 120 piante sono tratte con micorizie, mentre gli altri due non sono tratte con micorizie, piantate lo stesso giorno, stessa tipologia, stesso plafò, vedremo quale delle due andrà meglio anche seguendo i consigli infatti di Giacomo Rana. Sull'uso dei prodotti naturali e quindi combinati poi fra loro per dare il migliore risultato ma oltre che quantità anche sapore. Vedremo, questo è il primo giorno. Qua siamo nel piccolo settore dei pomodori marmande, tra i filari, i pomodori sono chiamati giallorossi ma in realtà poi alla fine sono arancioni. Qui abbiamo seminato i pomodori marmande, io ho fatto le strutture affinché possano comunque alzarsi da terra e non stare appoggiati per terra. Vedremo. Al prossimo video, ciao!